Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Generazione Z. Io sono Manuel Garau e come sempre, prima di passare alla nostra intervista, ci tengo a ringraziare la Mabenco e l'ufficio scolastico della Sardegna che ci aiutano, appunto, ci danno la possibilità di creare questo ponte di connessione tra le aziende e le scuole. Come lo facciamo? Intervistando proprio gli imprenditori, i rappresentanti delle maggiori imprese sarde, in modo che raccontino la loro esperienza e come si vive il mondo del lavoro in Sardegna per poi trasmettere le puntate all'interno delle scuole. Oggi qui con noi abbiamo l'amministratore delegato di una grande azienda in Sardegna nel settore dell'automotive, la Special Car Group. Quindi ragazzi, oggi qui con noi abbiamo Nicola Vacca. Ciao Nicola, benvenuto. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Come stai? Bene, grazie, bene. Dai, benissimo. Guarda Nicola, io ti volevo chiedere subito una cosa, innanzitutto di presentarti, dirci un po' chi sei, di cosa ti occupi, diciamo cosa si occupa anche l'azienda e le varie aziende che appunto gestisci. Sì, io sono Nicola Vacca, appunto, ho 51 anni, sono l'amministratore delegato, nonché il titolare del gruppo Special Car, che si occupa ovviamente di distribuzione di auto, siamo concessionari BMW, Mini e BMW Motorrad per tutta la Sardegna, poi siamo concessionari Mercer per il sud di Sardegna, abbiamo preso anche da poco la concessionaria di R Sport Equipe X, che è un gruppo italiano, e poi siamo anche concessionari distributori di Maserati e Ferrari, abbiamo l'assistenza per tutta la Sardegna e la distribuzione per tutta la Sardegna. Questa è, diciamo, l'attività principale. Poi abbiamo delle altre attività che vanno dal ramo immobiliare al ristorazione, siamo anche francesi insieme a degli altri soci di KFC, quindi... Che i ragazzi conoscono molto bene. I ragazzi sicuramente lo conoscono. Io tra l'altro ricordo ancora il giorno dell'inaugurazione di quello qua alla Corte del Sole, perché eravamo un evento al T-Hotel insieme a tantissimi studenti, che mi ricordo tu dovevi andare, dovevi spostarti per l'inaugurazione, quando avevi detto il nome KFC, tutti i ragazzi avevano fatto... Sì, beh, diciamo che i ragazzi sicuramente lo conoscono bene. Poi abbiamo anche in società, sempre con un nostro socio, una palestra che si chiama Atolo 2.9, che è sempre qua vicino, nella zona di Sesto. Poi abbiamo società che gestiscono lavaggi, insomma, abbiamo diverse attività, ecco, cioè... Quindi diciamo che non ci mancano gli impegni, però siamo contenti, insomma, di averli e speriamo di dare anche tanto lavoro a tante persone. Assolutamente. Poi tu, oltre a gestire diverse aziende, Special Car, KFC, eccetera, sei anche l'amministratore delegato di una bellissima famiglia, giusto? Eh sì, sì, quella è la cosa più importante. Che tra l'altro sono... hai quattro figli, tra l'altro, della generazione Z. Sì, tutti nati dopo il 2000, quindi ne ho una del 2003, una del 2008 e due gemelli del 2010. Allora li salutiamo, sicuramente guarderanno la puntata. Saluto loro, che mia moglie è difficile che la veda, però li saluto anche mia moglie, magari i miei figli la faranno vedere l'interno. Perché poi mi viene subito una cosa da chiederti. Tu che appunto hai i figli della generazione Z, sono miei coetani, come coetani anche dei ragazzi che ci guardano nelle scuole. Sì. Ti chiedi spesso cosa faranno i tuoi figli dal punto di vista lavorativo, in futuro? Ma io guarda, ai miei figli intanto dico sempre una cosa, che devono fare una cosa che a loro piace fare. Ne parlavamo proprio ieri a pranzo, cioè non devono fare necessariamente il lavoro che fa il padre o qualcosa perché gli aveva detto l'amico o l'hanno visto su TikTok piuttosto che... Loro devono fare una cosa che gli piace perché lavorare è una cosa dura, non è andare a scuola, che per carità è duro, ma intanto sono nove mesi, intanto è solo la mattina, poi è vero che il pomeriggio si studia, ma il lavoro dura tutta la vita, quindi non dura 10, 12, 15 anni. E non hai tre mesi di vacanza. Non hai tre mesi di vacanza, a volte come capita spesso a noi imprenditori facciamo solo 10, 15 giorni di vacanza in un anno e comunque vi assicuro che la testa non è 100% in vacanza. C'è sempre la testa un po' sull'azienda e quindi quello che dico sempre ai miei figli ma anche quando mi è capitato di parlare con dei ragazzi è fatte un lavoro che vi piace fare, battetevi per fare quello che vi piace fare, non ascoltate la gente che dice devi fare quello, devi fare quell'altro. Dovete fare quello che vi piace perché se lo fate con passione il lavoro non è pesante, se lo fate perché lo dovete fare anche il lavoro che può sembrare il più bello in assoluto diventa palloso, diventa una cosa pesante, diventa una cosa che quando devo andare a lavoro dico mamma mia anche oggi devo andare a lavoro ed è la cosa peggiore. Tu ci speri un pochino però che magari i tuoi figli, qualcuno di loro prosegui poi nell'azienda, in una delle aziende che avete costruito? Sicuramente noi, io e mio fratello stiamo cercando di costruire un'azienda strutturata, un'azienda solida, un'azienda che abbia diversi rami di modo che magari i nostri figli possano essendo in tanti perché io ho quattro figli, mio fratello ne ha due anche se sono molto più piccoli, però è giusto insomma che abbiano anche la possibilità qualora loro lo volessero di poter continuare nelle aziende di famiglia. E' ovvio che non vorrei mai che loro facessero obbligatoriamente quello che fanno i genitori, che fa il padre, che fa lo zio, devono necessariamente fare quello che loro gli piace fare, è una cosa che io gli ripeto sempre. Poi è ovvio che loro mi dicono, no ma io voglio venire a lavorare in un'azienda perché comunque il lavoro che facciamo noi, il settore dell'auto, sono bei settori, sono settori che comunque sono appassionanti, si tratta di prodotti interessanti, belli, belli da guidare, però vi assicuro che è molto faticoso, quindi devi farlo se hai passione, se no è meglio lasciar perdere. Assolutamente, quindi quello che tu cerchi di trasmettere comunque ai tuoi figli, comunque piena libertà e di seguire le proprie passioni. Sempre, sempre, quello lo dico ai miei figli ma lo dico ai figli degli amici o anche quando mi è capitato di parlare con i ragazzi del Pacinotti, gli ho detto ragazzi la prima cosa che dovete fare è seguire le vostre idee, seguire la passione, seguire quello che volete fare perché poi vi viene tutto più semplice. Bellissimo, che poi tra l'altro tu investi molto nel sociale, hai fatto diversi incontri comunque con i ragazzi, come per te, cioè che impressioni, che emozioni ti trasmette parlare proprio con le nuove generazioni, quando appunto vedi che ti ascoltano e condividi la tua esperienza, ti fanno domande? Allora, guarda, io devo dire la verità, per un certo periodo sono stato molto assente dalle nuove generazioni perché avevo figli piccoli, i miei collaboratori erano tutti più o meno grandi, quindi comunque mi mancava proprio un gap tra i ragazzi di 20 anni e i 30 anni. Poi adesso, avendo mia figlia grande che comunque ha 20 anni, avendo gli amici di mia figlia che magari vengono a casa e che sono anche un po' più grandi, 23-24 anni, avendo anche avuto l'esperienza con voi, con l'esperienza di Might, con l'esperienza di Mab, che ci hanno portato a parlare, a fare degli incontri con i ragazzi giovani, devo dire la verità che un'idea che io avevo, che magari i ragazzi erano un po' scialbi, non avevano personalità, invece mi devo ricredere perché ho trovato, non tutti, ma molti ragazzi molto decisi, molto bravi, molto preparati, che sanno anche parlare in pubblico. L'altro giorno, quando abbiamo fatto il lavoro conclusivo con Might, prima dell'estate, abbiamo fatto un evento, sono intervenuti 4 ragazzi e devo dire la verità che io alla loro età non avrei saputo fare una presentazione così come l'hanno fatta loro, con parole appropriate, con terminologia corretta, presentando con emozione giusta ma senza essere troppo emozionati. Quindi, veramente una generazione che mi ha sorpreso, sono contento che sia così perché sono il nostro futuro e spero che abbiano la possibilità di dimostrare quello che valgono. Sì, mi ricordo, c'ero anch'io il giorno quando avevamo fatto l'evento, personalmente poi per me sono miei coetanei, forse erano qualche anno più piccoli di me, io ho 22 anni, forse avevano 18-18 anni, Sì, avevano fatto degli interventi spettacolari, molto molto bravi. Poi, soprattutto è vero, ora che ci penso, questa capacità anche di parlare in pubblico, cioè saper controllare le emozioni, non è semplice parlare davanti a una platea, c'erano forse 20-30 imprenditori, c'era una ventina, c'era una bella platea. Tra l'altro non conoscevano. Che non conoscevano, esatto. Quindi non è facile, cioè parlare a delle persone adulte, imprenditori, stare lì davanti a tutti, in piedi, che tutti ti guardano, io, ripeto, io non l'avrei saputo fare, quindi credo che anche molti miei coetanei avrebbero avuto difficoltà alla loro età a fare una presentazione di quel tipo. Quindi vuol dire che questi ragazzi sono più spigliati, sono più preparati, sono più bravi anche a fare delle cose che magari noi abbiamo impiegato più tempo a fare. Beh sì, alla fine come generazioni c'è proprio una differenza, cioè per esempio noi siamo nativi digitali, ne stavamo parlando anche prima. Infatti ti volevo chiedere, proprio tu quando avevi l'età della generazione Z, cioè quando hai iniziato, come hai iniziato il tuo percorso, la tua carriera? Ma io guarda, per esempio, mi ricorderò sempre quando sono entrato in azienda, no? Io ho iniziato giovane. Quanti anni avevi? Allora, è un po' particolare la mia storia, adesso te la racconto velocemente. Allora, io ho iniziato, a me piacevano molto il mondo le auto, quindi io il sabato, la domenica andavo sempre agli eventi che organizzavamo di presentazione. Prima si usava molto a fare gli eventi, il venerdì sera, il sabato, l'open weekend, insomma, oggi si usa un po' meno ma si usa ancora. Che erano degli eventi di… Eventi dove tu presentavi i nuovi modelli, oggi sai, con internet i nuovi modelli tu li vedi due mesi prima su internet, quindi la gente è anche meno interessata a venire a vedere le macchine, se non è proprio interessata a comprarla. Prima che tutto questo non c'era, le macchine venivano viste prima dai concessionari, poi venivano portate nei showroom e si organizzavano degli eventi anche a porte chiuse, dove invitavi i clienti, top, fai delle macchine e poi si faceva l'open weekend per presentarla a tutti. Quindi erano proprio degli eventi importanti, no? Completamente diversi da quello che esiste oggi. Noi non li abbiamo conosciuti. E niente, quindi io andavo spesso in azienda anche da ragazzo, mi piaceva molto, mi piaceva studiare, mi leggevo i famosi Deplian, che oggi ce ne sono sempre meno, perché sono tutti digitali, mi leggevo il quattro ruote, mi informavo molto perché mi piaceva, ero appassionato. E quindi appena ho avuto la possibilità, cioè appena sono entrato dai superiori, che andavo a scuola la mattina, ero già un po' più grande, chiese a mio padre, visto che mio padre aveva tenuto lo showroom in città, ma aveva trasferito la sede in Viale Monastire, allora, quindi fuori città, chiesi a mio padre se fosse stato possibile andare nello showroom lì a studiare, al posto del venditore, dare così delle indicazioni ai clienti, oppure inviarli, mandarli l'invia di Monastire. E fu così, insomma, che inizia la mia carriera. A me questo piace veramente tanto, cioè, per qualche anno, insomma, ho frequentato la concessionaria, anche se saltuariamente non andavo sempre, insomma, quando c'avevo da studiare, c'avevo degli impegni col calcio, allenamenti, però comunque andavo. E poi ho iniziato a 18-19 anni, insomma, come sono tornato dagli Stati Uniti, mi sono iscritto, ho studiato un periodo, ho fatto inglese, non ho studiato, non ho fatto l'università lì, mi sono iscritto all'università qua, ingegneria meccanica, ho fatto qualche anno in ingegneria, però nel frattempo lavoravo la sera e studiavo la mattina. frequentavo l'università, poi ho deciso di non studiare più, è un piccolo rammarico, ma è una scelta mia perché i miei genitori non mi hanno, anzi, diciamo che mi hanno sempre invogliato a studiare, sono stato io che ho scelto di non studiare. Perché volevi, ti piaceva, cioè volevi concentrarti sul lavoro? Mi piaceva il lavoro, mi piaceva, io ero proprio appassionato, mi piaceva tanto, c'era tanto da fare, c'era tanto da sviluppare, mi sentivo pronto. Da che ruolo hai iniziato, cioè qual è il primo ruolo che hai avuto? Il primo ruolo, come ti ho detto, ho fatto un po' di vendite, perché è la cosa più naturale, tu vai lì, poi ti seguono i venditori un po' più anziani, quindi è abbastanza facile. E com'era all'inizio? Cioè quando ti vedevano tu eri piccolino, cioè piccolino? Eri giovane, però se vedevano che eri preparato, io ero molto preparato, studiavo i listini, studiavo le macchine, le provavo, le vedevo, quindi comunque ero abbastanza preparato, non ho mai avuto grossi problemi. E la prima vendita come è stata? Prima vendita in assoluto l'ho fatta a 15 anni, quando andavo appunto in questo showroom e che entrava un signore, ne entravano tanti, quindi spiegavo le macchine, facevo vedere, poi magari li rinviavo. Gli davo il numero di telefono dei venditori che stavano in via le monastiri, si fissavano gli appuntamenti, però questo signore probabilmente gli piace quel modo in cui gli presentai la macchina, era convinto a comprare, credo fosse per la moglie, insomma. Noi eravamo concessionari allora a BMW e le mini, però le mini innocenti, non le mini di oggi, le mini italiane, la tre cilindri, e comprò una di queste mini, quindi insomma super entusiasta, feci il contratto, lo compilai, mi diede l'assegno di acconto, chiusi subito l'ufficio e scappai a casa da mamma. Che poi mi sa, la prima te la ricordi? Eh sì, 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 non mi ricordo il nome del cliente, però mi ricordo insomma che fu una bella emozione. E poi io in azienda ho fatto un po' di tutto, ecco un altro consiglio se posso darlo ai ragazzi di generazione Z, quindi giovani, è quello che bisogna sempre conoscere molto bene le aziende, se non bisogna mai entrare, ah io sono più bravo di te, bisogna sempre entrare lì con molta umiltà, soprattutto se si entra nelle aziende di famiglia, ma anche se si entra in altre aziende, avere voglia di conoscere, voglia di crescere, non fermarsi mai, non accontentarsi mai, quindi io sono entrato lì, ho fatto per un periodo le vendite, e poi capitò che un magazziniere andò via dall'azienda perché non stava bene, mio padre non riusciva a trovare un magazziniere nuovo, e io gli disse, guarda entro io in magazzino, non ti preoccupare, faccio io, e quindi entrai in magazzino, allora non c'erano pc, non c'erano, si faceva tutto a mano, gli ordini a mano, c'erano i microfilm per vedere, le micro fish per vedere i ricambi, quindi era completamente diverso da quello che c'è oggi. E feci tre anni più o meno in magazzino, poi terminai in magazzino, serviva una persona in accettazione in officina, entrai in officina, lavorai in officina, feci il collaboratore, il capofficino, il coordinatore, sinché poi si liberò il posto di responsabile di tutta l'assistenza, quindi sia i ricambi che il post vendita, e feci, anche se ero molto giovane, il BMW, devo dire la verità, era contraria, mio padre, anche lui, era un po' preoccupato, perché gestire, insomma, per ai grandi, che avevano anche vent'anni più di me, insomma, non era facile, però riuscii, portai avanti l'assistenza, mi sono tolto belle soddisfazioni. E poi piano piano, cioè, il periodo, diciamo, non eri tu l'amministratore? No, 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 io dal 94, più o meno, 94-95, quindi avevo 24-25 anni, sino al 2013 ho fatto il responsabile del post vendita, vendevo anche macchine, perché mi ricava un po' di tempo, avevo i miei clienti fidelizzati, quindi vendevo quelle 70-90 macchine all'anno, però mi occupavo principalmente di assistenza, questo facevo. Poi, quando mio padre ha visto, insomma, che mio fratello si occupava delle vendite, cosa che fa ancora oggi, anche se in maniera diversa da come lo faceva prima, io mi occupavo del post vendita e qualcosina anche delle vendite, mi occupavo anche dello sviluppo dell'azienda, quindi il lato informatico, sono sempre stato appassionato, ha visto, insomma, che potevamo prendere, insomma, piano piano il posto suo, lui ha cominciato piano piano a delegarci sempre di più, sinché ci ha dato la possibilità di firmare in banca, la possibilità di diventare consigliere di amministrazione dell'azienda, darci le firme, piano piano, lui si è, non ha allontanato, perché poi in azienda è venuto sino alla fine, però, diciamo, ci ha dato la possibilità di sostituirlo sino al punto che, insomma, le decisioni abbiamo sempre prese soprattutto quelle importanti tutti quanti insieme, ma proprio per scelta, ma ancora oggi noi per scelta coinvolgiamo la nostra madre, così come coinvolgevamo fino a qualche anno fa mio padre, quando dovevamo fare qualche scelta importante, tipo acquisto di nuovi immobili, piuttosto che un nuovo business, piuttosto che crescita importanti, cose un po' particolari, abbiamo sempre coinvolto tutta la famiglia. È ovvio che l'ordinaria amministrazione no, c'è l'ordinaria amministrazione, mio fratello segue certe cose, io ne seguo altre, poi io e lui, diciamo, ci parliamo molto, per fortuna andiamo molto d'accordo, abbiamo due ruoli completamente diversi in azienda, però siamo anche, insomma, molto compatibili, quindi ho la fortuna, ho la fortuna di andare molto d'accordo che è una cosa molto importante questo. Bellissimo, il passaggio però è venuto, cioè, piano piano, cioè, hai detto che hai iniziato con la vendita, poi il post vendita, poi ti sei occupato anche del magazzino, quindi non è avvenuto da un momento all'altro, cioè, c'è stato un sacrificio dietro. Tante ore di lavoro, io lavoravo, cioè, ho sempre lavorato tanto, cioè, io mi ricordo mio padre, quando cominciò a fare il post vendita, che ovviamente ho trovato diverse cose che non andavano bene, l'azienda che non andava bene in quel settore, ho dovuto cambiare persone, fare, ovviamente per riuscire a dimostrare, perché BMW era contrario, cioè, no, ma è troppo giovane, c'è una persona più di esperienza, e mio padre era lì che diceva, ma secondo me mio figlio ce la fa, però io lo capisco, cioè, mettere in mano una parte importante dell'azienda, ha un figlio, ha 22, 23 anni, 24 anni, non è facilissimo, e aveva tutte le ragioni. Casper, non è responsabilità. Non è responsabilità, quindi io, essendo comunque un ragazzo molto responsabile, ho sempre lavorato tantissimo, mi ricordo, mio padre veniva a prendermi in azienda alle 11, mezzanotte, ma siamo ancora qui che stai lavorando? Cioè, proprio veniva e si arrabbiava, perché dicevo, pa, c'è da fare, cioè, poi ripeto, eravamo in pochi, quindi dovevamo fare più cose, cioè, mentre oggi siamo 150, il lavoro è molto parcellizzato, no, cioè uno è dedicato a una cosa, poi noi cerchiamo sempre di far crescere le persone, quindi ogni persona, non tutti, ma cerchiamo di farle girare, in modo che sappiano fare un po' tutto dell'azienda o comunque di quel settore lì, perché è importante che le persone sappiano fare diverse cose, perché poi capiscono il perché lavori in quella maniera piuttosto che in un'altra, perché se tu vieni da me e ti dico, fai così, punto e basta, non è bello, fai così, perché ti dà questi risultati, poi dopo ti metto da un'altra parte, tu dovevi, da un'altra prospettiva, capisci il perché devi fare quello, no? Ed è un modo anche per far crescere le persone, per farle evolvere, per farle diventare più brave e anche più responsabili. Quando è stato, quando, qual è il periodo, diciamo, in cui avete avuto la maggiore espansione? Parlo di Special Car, che è, diciamo... Ma ci sono stati, allora, diversi periodi, diciamo, di espansione, diversi periodi di crisi, che sono stati gestiti con bravura, ma non per farci complimenti, però sono stati gestiti con bravura, con fortuna, perché ci vuole anche quello, abbiamo, ci siamo sempre circondati di professionisti bravi, che è un'altra cosa molto importante, Che cosa? Circondarsi di figure? Eh, di figure, professionisti, commercialisti, piuttosto che consulenti, noi abbiamo diversi consulenti, consulenti finanziari, abbiamo, che possono essere stati prima degli amici, poi li abbiamo portati in azienda, oppure sono diventati poi amici man mano che ci abbiamo lavorato, però sicuramente sono state delle persone che ci hanno dato una grossa mano, ci hanno dato delle intuizioni, ci hanno dato dei consigli giusti, e questo ci ha permesso insomma di sviluppare l'azienda, di farla crescere e di farla andare, insomma, farla diventare un gruppo importante come oggi. Poi è ovvio che oggi stiamo affrontando un altro di quei momenti molto difficili, no? Per il settore automotive in generale, quindi è anche uno dei motivi per cui abbiamo deciso di differenziare un attimo il business, cioè noi per anni siamo stati molto concentrati un po' sull'immobiliare, ma neanche più di tanto, ma molto sul settore automotive, facendo crescere l'azienda, sviluppandola, facendola diventare insomma una delle aziende, una delle prime aziende in Sardegna nel settore automotive. Perché quando avete iniziato, quando hai iniziato tu in azienda, quanti eravate? Oh, eravamo una ventina. Ok. Tu quando stavi iniziando, avevi la visione che un giorno sareste stati 150? Diciamo che è stata sempre un'aspirazione. Ok, un'aspirazione. Esatto, più che una visione, perché la visione non è facile, sì. A me è sempre piaciuto far sviluppare le aziende, farle crescere, farle diventare più grandi, farle diventare importanti, farle diventare nelle aziende che si impegnano anche nel sociale, che danno occupazione, che sono ben viste. Questo è un ruolo che l'imprenditore deve avere. L'imprenditore non deve solo pensare al business, deve pensare anche al ruolo sociale che ha nel territorio, deve pensare a tante cose. Se io devo rimproverare una cosa alla politica in generale, ma soprattutto a certa politica e a certi giornali, questo di demonizzare sempre gli imprenditori. Gli imprenditori sembra che siano sempre ladri, sempre evasori, non capiscono che senza l'impresa lo Stato italiano, l'Italia, non esisterebbe. Cioè, chi crea valore in Italia, ma nel mondo in generale, sono le imprese. Chi paga le tasse, più o meno, poi io sono d'accordo che non è giusto che ci sia l'evasione che c'è, ma ci sono mille modi per farlo. E non sono mai riuscito a trovare un modo perché non lo vogliono fare, perché i modi per non evadere ci possono essere, senza nessun problema. Il problema è che è scomodo dire certe cose e fare certe cose, perché probabilmente i primi che vogliono che si evada sono loro, per avere poi una scusa per dire che la colpa è dell'evasione e non dell'oro che sprecano i soldi. Perché la verità vera è questa, che noi spendiamo in Italia una quantità di soldi, più che spendiamo buttiamo, perché gli errori che fa la pubblica amministrazione in generale a 360 gradi, se li facesse un imprenditore avrebbe fallito di domani mattina, invece per loro basta creare nuovo debito, nuovi problemi e si risolvono i problemi. Quindi prima di dire che la colpa è degli imprenditori che vadano, che ci sono ed è sbagliato che ci siano, attenzione io non voglio difendere l'evasione, devono guardare quello che fanno loro, come spendono i soldi che noi paghiamo come tasse, tutti i cittadini, perché tra tasse dirette e indirette si pagano una cosa che è impossibile. Ecco, questo è un problema grosso che per i ragazzi giovani, per esempio, potrebbe essere un ostacolo allo sviluppo del lavoro. Ecco questo, cioè vorrei che i politici, che ci fosse un bel ricambio generazionale nella politica, ma anche nelle funzioni pubbliche, cioè nella pubblica amministrazione, e che ci fossero delle persone responsabili che non buttassero i soldi che vengono pagati in tasse. Poi ci vuole anche qualcuno che invece controlli chi non paga le tasse, perché è giusto che invece tutti quanti paghiamo le tasse. Però per invogliare la gente a pagare le tasse, tu i soldi li devi spendere bene, perché se io vedo che tu i soldi li butti, anziché spenderli, e allora ti passa anche la voglia di lavorare per pagare delle tasse che poi sai già che vengono buttate. Quanto è importante, secondo te, far conoscere l'imprenditorialità alle nuove generazioni? Proprio la cultura imprenditoriale, chiaramente di valore, quella positiva, alle nuove generazioni? Allora, è importante perché? Perché ci sono molti ragazzi che hanno i genitori che vengono dalla cultura imprenditoriale, no? E quindi ovviamente già la conoscono in diversi settori, no? Però ci sono tanti ragazzi che magari li piacerebbe fare impresa, ma non hanno mai avuto né un genitore né un parente che magari fa impresa e quindi non hanno avuto la cultura imprenditoriale. Invece, secondo me, è importante che ci sia questa cultura imprenditoriale perché, come ho detto prima, è l'impresa, cioè è tutto ciò che crea marginalità, che crea tasse, che pagano queste tasse, che poi crea la ricchezza del paese. Sì, che crea proprio valore nel territorio, certo. E quindi non si può vivere tutti, tutti vivendo negli uffici pubblici o tutti andando all'estero, perché sennò creiamo un paese povero, no? Il paese deve essere ricco, ricco. Noi abbiamo tantissimi giovani, ci sono tantissimi giovani, mi rivolgo a quelli che vedranno questo filmato, ma anche un po' più grandi, no? 30 anni, 35, 40 anni, che comunque sono bravissimi, però poi vedo che tantissimi ragazzi bravi sono costretti o invogliati più che costretti a andare fuori, perché e fuori si vive meglio, perché ci sono più servizi, perché le cose sono più semplici, da noi è tutto complesso, ogni volta che devi aprire un'impresa un'azienda sembra che vuoi fare del male a qualcuno anziché del bene, cioè è questa mentalità che un po' deve cambiare. Anche investire proprio nelle iniziative, nelle intuizioni che hanno, nelle start-up certo, nelle start-up. Io, per esempio, la mia breve esperienza, diciamo, da, io anche io avevo iniziato a 14, 15 anni a fare start-up e ho sempre avuto difficoltà a trovare finanziamenti. Poi forse ero un po' piccolino a 15 anni, è un po' difficile prendersi una certa responsabilità. Però sì, è vero, caspita, ci sono tante intuizioni, noi quando siamo andati nelle scuole abbiamo sentito delle intuizioni che ti facevano venire i brividi. Certo. E infatti ben vengono imprenditori come te e poi tanti altri che investono anche proprio nel sociale, nelle nuove generazioni, perché non è scontato. Cioè, le nuove generazioni e poi, anzi, un'altra cosa a favore, cioè, sì, oltre a proprio investire nelle start-up anche proprio nelle capacità e nei talenti dei ragazzi, perché ogni ragazzo poi ha un talento diverso. Molto spesso manca il dialogo con le nuove generazioni e per questo infatti bisogna, dobbiamo andare insieme, proprio creare questo ponte di connessione tra le aziende e le scuole, proprio per far conoscere la cultura positiva dell'imprenditorialità alle nuove generazioni, in modo tale che poi le loro intuizioni le sviluppino con valori positivi, che poi anche loro di conseguenza creino ricchezza e valore per il territorio, cioè sia per l'azienda, per, diciamo, i vari collaboratori, ma poi di conseguenza anche reinvestire una parte per il territorio, per il sociale. Questo è fondamentale. Benvega che ci sono aziende come la vostra, come tante in Sardegna, ma voi soprattutto, vi conosco, come abbiamo fatto il progetto MIT nelle scuole, è davvero bello e bisogna continuare così, bisogna investire nei giovani. Io sono un po' di parte perché faccio parte della generazione Z, quindi... No, ma guarda, i giovani devono essere aiutati perché i ragazzi sono, ci sono tanti ragazzi che sono veramente bravi, intelligenti, hanno delle idee bellissime, poi gli manca un po' la guida perché c'è un distacco tra quello che è la scuola e quello che è il mondo del lavoro. E purtroppo le istituzioni non colmano questo divario, no? Cioè, se uno deve aprire un'azienda, adesso lascia perdere chi ha un genitore, un parente, un amico che ha un'azienda e quindi gli può dare delle informazioni, ma se tu devi aprire un'azienda oggi è veramente difficile. Se tu devi fare impresa è veramente difficile, non sai da che parte girarti. Cioè, in Italia, mentre se tu vai in altri paesi ti aiutano, cioè tu vai in Svizzera e dici buongiorno, vorrei fare l'imprenditore, voglio costruire questo, devo fare questo. Ti mettono a disposizione una persona pubblica che ti fa tutte le pratiche, con te e tu in sei mesi puoi aprire un'azienda. Da noi ti mettono una persona pubblica che fa contro di te, ma contro per non farti fare l'impresa. Cioè, non capendo che se quello fa impresa e paga le tasse, tutti quanti ci guadagniamo. Paghiamo tutti quanti meno tasse e l'azienda, tra virgolette, Italia va meglio. Se tu invece continui a creare ostacoli, a creare problemi, a creare regole che non servono a niente, a tenere queste leggi che sono complicatissime da interpretare. E ogni volta devi riprenderti le leggi del 1930, arrivare sino al 2023, ci vogliono sette avvocati solo per leggere le leggi, poi per interpretarle. Ogni avvocato ha una sua interpretazione, cioè sta diventando un paese vecchio, complesso e difficile. Quindi, oltre agli imprenditori che aiutano i giovani, ci vuole anche una classe politica che capisca è che l'Italia va svecchiata, va aiutata a svilupparsi e crescere per non far andare via le persone. Perché poi tutti i cervelli, quelli che sono bravi, quelli che hanno voglia di crescere, quelli che hanno voglia di fare, purtroppo qualche volta o più di qualche volta se ne vanno dall'Italia perché vedono che altri paesi sono più veloci, più rapidi, cioè non devono fare la stessa fatica che fanno in Italia. Ti volevo chiedere una cosa proprio, una cosa finale, proprio tu siccome sei un imprenditore molto conosciuto in Sardegna e hai costruito tanto, avete costruito tanto, tu e tutto il tuo gruppo, tu proprio sulla base della tua esperienza personale che consiglio vorresti dare ai ragazzi? Tipo proprio tre consigli, tre bombe che i ragazzi possono veramente mettere in pratica da subito, proprio come, sì proprio tre consigli da dare ai ragazzi. Ma allora intanto uno l'ho già dato che è quello di seguire quella che è la loro passione, la loro voglia e di fare quello perché il lavoro comunque non esiste una cosa semplice, è sempre faticoso, difficile, richiede tanto tempo e tanto impegno. E se non fosse difficile, se non fosse difficile lo farebbero tutti. Quindi la prima cosa è quello, ci vuole passione, voglia e impegno, tanto. La seconda cosa è cercare magari qualcuno che loro possano conoscere, che può essere un amico, un parente, che magari ha un'impresa di successo e chiedergli una mano per sviluppare o appoggiarsi a lui o trovare qualche imprenditore. Noi per esempio ascoltiamo tanti giovani, tante persone e o li aiutiamo con dei progetti ad hoc come con voi, come capita, oppure magari abbiamo anche finanziato qualche progetto di start-up interessante che ci piaceva e abbiamo anche alcuni progetti in start-up che come spesso capita, tanti vanno bene, qualcuno va male, quindi anche lì non bisogna mai arrendersi, bisogna avere il coraggio di, se non vediamo che una cosa non va bene, di tagliare il ramo secco per non far morire tutta la pianta. Quindi insomma, quello che posso dire io è che ci vuole tanto coraggio, tanta voglia, tanta passione e soprattutto fatica e non bisogna avere paura di affrontare il mondo reale che è diverso dal mondo della scuola. Nicola, grazie mille. Grazie a te. Grazie mille per essere stato qui con noi. Consigli fighissimi, soprattutto il primo consiglio è ciò che sta alla base. è veramente, sembra una cosa che si sente spesso, ma in realtà è proprio la cosa più importante, è partire proprio dalle proprie passioni. Io anche proprio nella mia breve esperienza, breve ma diciamo un po' intensa esperienza, quando fai una cosa seguendo le tue passioni l'approccio è totalmente diverso, perché appunto come dicevi tu, veniva tuo padre e finivi a mezzanotte, ma c'era la passione, quindi cioè volevi, non senti la fattica, ti svegli. Lo vuoi fare perché non vedi l'ora di ottenere il risultato. Esatto, poi ci sta a prendersi magari quella settimana di relax per ricaricare, quella ci sta sempre. Però la passione è ciò che ti guida, sennò come puoi fare lo stesso lavoro per anni e anni e anni se non c'è passione. Quindi seguire le proprie passioni. Nicola, ti ringrazio, io ringrazio la Mab & Call, l'Ufficio Scolastico della Sardegna che appunto ci aiutano, ci danno la possibilità di portare esperienze di valore e grandi consigli come abbiamo ascoltato oggi all'interno delle scuole. Inoltre ringrazio la regia, ringrazio ancora te Nicola. Grazie a voi, grazie a voi. Ciao a tutti ragazzi. Ciao, arrivederci.